Sono una sessantina le persone con disabilità più o meno grave seguite dalla cooperativa Monteverde Onlus con sede a Badia Calavena e laboratorio a Tregnago in Val d'Illasi nell'est veronese. La cooperativa Monteverde Onlus intanto ha 34 anni di attività. È il punto di riferimento se vogliamo dell'est veronese, della vallata, soprattutto d'Illasi. Ha sempre avuto come mission principale, centrale, quello di dare un sostegno alle persone con disabilità e quindi generare servizi diurni per tutte quelle persone in uno stato di disabilità. Oggi poi si è specializzata anche nell'ambito dei bambini e della famiglia e quindi tutto quello che riguarda servizi di poliannambulatorio di sostegno ai bambini con difficoltà psicologiche sia a scuola piuttosto che in struttura privata permette alla Monteverde di raggiungere quella che è la sua mission che è quella di dare ad ognuno la possibilità di essere se stesse. Qui vengono preparate la carta riciclata e anche le bomboniere per varie occasioni. Oltre che la risistemazione di vari oggetti per terzi. Grazie alla lotteria con 9.666 biglietti venduti e la raccolta di 19.332 euro a ottobre partirà per il progetto Felicità in Azione un corso per formare gli operatori con il metodo di stimolazione basale da applicare alle persone disabili. La lotteria quest'anno è stata dedicata al sostegno di tutte quelle attività che il centro di urno fa soprattutto rivolte alle persone con una disabilità più grave in particolare un percorso formativo per gli operatori e per gli educatori sulla stimolazione basale che è una tecnica particolare che riattiva e comunica attraverso i sensi e permette quindi alle persone di raggiungere uno stato di benessere maggiore.